L'umiltà è di facile acquisto quando l'uomo conosca se stesso. Eccovi adunque un mezzo che vi rende l'umiltà facilissima, conoscere voi stessi. Tutta la difficoltà che un uomo può avere ad umiliarsi nasce appunto da questo, che non conosce se stesso, estimandosi più di quello che si crede a tutti superiore. Ma fate che un uomo conosca se stesso, d'essere polvere o cenere, di nulla avere da sé ma tutto da Dio, come non sarà facile a lui rendere il tributo d'ossequiosa riverenza e di ogni lode che è dovuto a Dio. Conoscerà d'essere peccatore degno dell'inferno, non assicurato del perdono, d'essere capace delle peggiori iniquità, incerto di perseverare. Qual ripugnanza potrà fare il suo cuore a tenersi basso coi suoi fratelli? Ma voi ripigliate, tutta la difficoltà consiste nel conoscersi bene. Eppure è facile conoscere se stessi, uditemi bene, perché un oggetto si possa dir facile a conoscersi da tutti, bisogna che sia vicino. Ma questo non basta se non è ancora sensibile, né questo ancora basta se non salta, per così dire, negli occhi fino a chi meno osserva. Ora, qualcosa più vicino a noi di noi stessi, per poterci più facilmente conoscere, a toccare poi con mano il nostro niente. Umiliazio tua in medio tui. Qualcosa più sensibile, più ovvia, fino agli sguardi più grossolani dei peccati, dei difetti, delle tentazioni, i peccati, che anche volendo voi dimostrarne il pensiero, la stessa coscienza ve li getta in faccia. I difetti che ci vengono ad ogni ora rimproverati da tutti quelli con cui conversiamo, le tentazioni che ci sono, si moleste fino a renderci amara la stessa pace. Facile dunque conoscere noi stessi, facile dunque l'umiltà nella sua pratica.